Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Roma, rallentamenti per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Nord. Sulla statale 2 via Cassi ha provvisoriamente chiuso il tratto tra i chilometri 203 e 203 e 100 nei pressi di Buonconvento in provincia di Siena a causa di una frana. Sul raccordo Siena-Bettolle rallentamenti tra Casetta-Monteferti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!